Mar Anti-Infortunistica, dal 1990, esperienza e professionalità al vostro servizio. Roma, in vicolo Clementi Portuense, al numero 39. La Mar Anti-Infortunistica è un'azienda che vanta una pluriennale esperienza nei settori dell'antincendio e dell'anti-infortunistica. Siamo specializzati nell'attività di manutenzione e nella fornitura di estintori omologati, segnaletica di sicurezza, porte e vetrate, tagliafuoco a norme UNI 9723, linee idranti UNI 254570. Realizziamo inoltre corsi di formazione in base al decreto legislativo 81 per aziende, attrezzature antinfortunistica, calzature, abiti da lavoro. Disponiamo anche di un'officina mobile per il servizio di ricarica estintori. Offriamo alla nostra clientela un servizio globale, occupandoci anche di progettazioni e cura delle pratiche con i vigili del fuoco, consulenze di prevenzione incendi e installazione di impianti anti-incendio. Per maggiori informazioni telefonate allo 06 65 79 54 90 oppure scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica marant05 at mar03.191.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!